Salve a tutti. Noi siamo soliti, come oramai sapete, di prendere argomenti di grande rilevanza e trattarli in pochissimo tempo, in pochi minuti. Lo facciamo anche oggi parlando dell'equilibrio interiore. Certamente, certamente non possiamo nemmeno immaginare di esaurire neanche l'ennesima parte di questo argomento, però voglio proprio fare in modo che vi arrivi un messaggio, che vi arrivi una circostanza su cui, se non altro, riflettere. L'equilibrio interiore. Equilibrio, equilibrio. È chiaro il concetto, viene immediatamente in mente l'immagine di una bilancia che sta appunto in equilibrio, cioè che non pende troppo da una parte oppure da un'altra. Cosa significa? Significa semplicemente quello che ci suggerisce l'immagine visiva, cioè non pensiamo troppo in un modo né troppo in un altro. Non siamo propensi, eccessivamente propensi, ad essere in una certa strutturazione e neanche in un'altra strutturazione. Siamo appunto equilibrati. Ma come si arriva ad essere equilibrati? Se ci pensiamo, forse questa caratteristica è quella che agogneremmo di avere. Ognuno di noi vorrebbe, forse anche prima della felicità, perché la felicità, attenzione, non è una condizione di equilibrio. È uno stato di grazia, ma non certo di equilibrio. La felicità, la felicità in sé, porta a uno squilibrio perché si è, per così dire, accentuati in uno stato d'animo che è eccezionalmente positivo. E questo va benissimo. La condizione generale dell'esistenza, però, non è certamente quella dell'accentuazione, di essere grandissimamente felici oppure enormemente tristi. È una condizione in cui, e qui forse sta la chiave di lettura più interessante, vediamo tutto nell'ottica media, senza una grande esasperazione di concetti e derivati di tali concetti. Una persona equilibrata, quindi, è quello che di fronte a una grande dispiacere tende, almeno tende, a restare se stesso. Di fronte, come dicevamo prima, a una grande gioia tende a non dimenticare tutto il resto, che è un po' meno felice. Ma come, come, se c'è un modo, si raggiunge questa condizione? Se c'è un sistema per arrivare a immaginare un uomo che sia equilibrato, questo è certamente vicino a una lettura di se stessi. Mi spiego meglio per il tempo che mi resta a disposizione, sono pochi secondi. Leggere in se stessi significa ricercare dentro se stessi i motivi di una propria soddisfazione, i motivi della propria contentezza, o viceversa, ricercare i motivi di un profondo dolore che magari ci avvolge da tanti anni. Non è detto che il dolore non debba essere guardato, visto, considerato e ricercate le cause. Soprattutto perché, attenzione, soprattutto perché quasi sempre, le cose che ci danno dolore, sono lette da noi peggio di come effettivamente siano. Capite bene che questo è l'opposto del senso di equilibrio. Quindi l'equilibrio, se dovessimo dare un minimo di definizione estemporanea, è di dare alle cose, a tutte le cose, il giusto peso. Salve a tutti! Salve a tutti!